i tre maschettieri ti dico che questo non è il modo corretto di educare un bambino e io ti dico che questo bambino è mio e lo educo come mi pare piace questo non è il modo corretto di nutrire un bambino si forse hai ragione ma questo è ciò che il mio bambino preferisce mangiare a quanto pare il mio bambino è scappato visto ho ragione io i bambini non scappano se le mamme ritrattano come si deve i tre moschettieri te l'ho detto non è sufficiente nutrire un bambino devi anche insegnarvi a leggere dipingere e cantare e io ti ho detto che nutrire un bambino è la cosa più importante il mio bambino ha sviluppato un appetito per la lettura beh ha letto abbastanza piccolo mio è il momento di mangiare poi da bravi ce ne andiamo a letto a fare un riposino e poi mangiamo di nuovo che succede la mamma ha lavorato duramente per prepararti da mangiare e tu non lo vuoi allora dimmi che cosa vuoi ho capito si diventeremo i tre maschettieri orso possiamo farlo evviva sì possiamo diventeremo subito i maschettieri presto amici andiamo adesso tocca a noi tutti uniti non ci lasceremo mai i nemici spariranno in un baleno quando ci vedranno con la spada in mano cappaguanti e stivali la piuma sul cappello c'è coraggiosi e leali moschettieri a me orso guarda ci siamo i maschettieri orso penseremo noi a consegnare tutto maschettieri andiamo ehi pedalate più in fretta non fate le lumache dovete seguire tutti me perché devi essere tu al comando scusa perché punto numero uno io sono la più importante e punto numero due perché io sono d'artagnan chi hai detto chi sei io sono l'eroe tu piuttosto chi sei allora dimmi chi sei ah e così saresti l'eroe beh ti sbagli di grosso non lo sei sì invece sono la più coraggiosa non sei affatto la più coraggiosa comunque non mi hai detto ancora chi sei tu che ti importa dimmi chi sei serve per la storia io non te lo voglio dire tu cosa vuoi e tu dimmi chi sei te lo dico dobbiamo decidere chi è d'artagnan orso sta aspettando sì hai proprio ragione grazie ci chiameremo i moschettieri del re dove sono i regali e che fino ha fatto il quarto moschettiere probabilmente a combattere per tutti noi presto andiamo ad aiutare il nostro amico salve signori per caso avete visto passare un moschettiere lo avete visto e che cosa è successo diteci ciao 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 Signore, se non vuoi assaggiare le nostre spade Lascia quel maschettiere Moschettieri coraggiosi siamo noi Dai nostri buffi baffi tu si riconoscerai Ed il nostro motto presto imparerai Tutti per uno, uno per tutti Al galoppo, all'attacco Tempo più non c'è Che bel colpo, che è successo Moschettieri a me Porta il spadaccino, entra pure! Piccoli ninja Tanto non mi prendi, tanto non mi prendi Tanto non mi prendi, tanto non mi prendi Wow! Oh, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Oops. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Oh! Oh Oh Ciao Dovresti venire più spesso Ci siamo divertiti un sacco Jack si gira Corso Io voglio andare fuori Corso Io mi sto annoiando No No Mi annoio tanto Va bene non ti arrabbiare Guardi i cartoni in tv Grazie Non è possibile Sta nevicando anche in televisione Ma io mi annoio Mi annoio tanto 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 Beh potremmo girare un film Che ne dici Lascia perdere Dai vieni dobbiamo iniziare le riprese Vuoi dire che dobbiamo scrivere prima la storia? Ma non tutti lo fanno E va bene E va bene va bene Di che parla la storia? Ma è noiosa A chi vuoi che interessi? No A noi non serve un film del genere Ecco quello che ci vuole Questo sì che sarà un gran film E io? Che fine faccio? Che cosa? Non sono io la protagonista del film No Neanche così va bene Non sono io la protagonista del film Ah Non ti va mai bene niente E io la protagonista del film Ah E io la protagonista del film Ah 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 Mmmmm... complimenti orso questo sì che è un bel film bellissimo la febbre del ballo arriva! arriva! anche io, anche io voglio salutarlo ben arrivato, ben arrivato il nostro panda il nostro amico panda lascia che ti aiuti ti aiuto lo stesso hai visto? guarda cavallo! oh! Ah! Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì. La festa del raccolto. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. No, 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 no. Ciao a tutti. Oh, no, 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 no. Adesso, no, 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 soltanto il tuo costume Oh, dai tempo Perchè non ora l'ha chumpa Oh 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 D'accordo La festa non è riuscita bene Però In compenso Guardate quante belle zucche Oh Basta Basta Devo smetterla di credere alla magia Oh 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 Puoi chiamarmi Masha Oh Che splendida mattinata Però Non ho nessun amico Quanto mi annoio Oh 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 Perchè si aggira in quel modo furtivo Perchè si aggira in quel modo furtivo Appuntamento alla stazione Con chi Oh ciao ma come sei carino vedrai che faremo amicizia voglio farmi bella quando incontro nuovi amici allora quando sei arrivato dimmi hai fatto buon viaggio orso perché non ci presenti sei davvero molto educato puoi chiamarmi semplicemente massa oh facciamo un giro? beh allora che mi dici? ti piace questo posto? e che ne pensi del nostro clima? guarda il paesaggio a destra, guarda il paesaggio a sinistra mi dispiace ma ora la strada un po' di buche benvenuto nella nostra casa oh Non è vero, non è vero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ehi, ciao! Vuoi vedere altri video molto divertenti? Devi solamente cliccare qui e iscriversi al nostro canale. Ricordati di cliccare sulla campanella per ricevere tutti quanti i nostri aggiornamenti. Ok, devo andare! Ehi, orso, aspettami!